Gita di Pasquetta Finalmente, il fine settimana di Pasqua. Ci possiamo riposare per tre giorni. A dire il vero, avevamo detto a Susanna e a Federico che saremmo andati a fare con loro la gita di Pasquetta. Certo, ma è riposo anche andare a passeggiare per i boschi in collina dopo una settimana nel traffico della città. Sì, ma dove andiamo? Avevamo pensato al Montelario, perché dalla cima si vede un bellissimo panorama. Poi è una camminata abbastanza corta. Al massimo in tre ore saremo lassù. Chiama la corta? Guarda che poi bisogna anche scendere. E con tutto quello che mangiate e bevete voi uomini ai picnic, la discesa sarà dura. A proposito, dobbiamo andare a fare la spesa per fare i panini. L'ho già fatta io stamattina. Ed altro che panini, Federico ha voluto che comprassimo due polli allo spiedo e le patatine. E anche il vino. Figurati come sarete in forma poi, per scendere dal Montelario. E chi porta piatti e bicchieri di carta, posate e tovagliolini? Eravamo rimasti d'accordo che li avrebbero portati loro. Ma preferisco non fidarmi e li ho presi anch'io. Prepareremo gli zaini la sera prima. Piuttosto, hai pensato all'itinerario? Sì, me lo ricordo bene. Ci saremo stati venti volte. Andiamo in macchina fino al piazzale Cantini. Da lì, saliamo a piedi al rifugio Mazzini. E là, invece di continuare sull'altopiano, prendiamo il sentiero tra i boschi. Quello che va in Valtana. Al passo della nena, si taglia a destra e si arriva dritti al Montelario. Ma così non la si allunga troppo? Dal rifugio Mazzini c'è una scorciatoia comodissima per il passo della nena, senza passare per i boschi. Quel sentiero è all'ombra e ci fa un freddo terribile. Ero sicuro che non saresti voluta passare per i boschi, con la scusa del freddo. Di piuttosto che hai paura delle vipere, perché una volta, dieci anni fa, ne abbiamo vista una. A me, invece, il bosco piace proprio perché è fresco e pieno di scoiattoli, di marmotte e di animaletti bellissimi. Va bene, facciamo pure quella strada all'andata. Ma vedrai che al ritorno l'accorceremo, perché con tutto quello che avrete mangiato, vorrete per forza prendere la scorciatoia. E poi, se nel bosco fa freddo, rischia di bloccarvi la digestione. Dalla cima del Montelario si vede un bellissimo panorama. Per fare prima, invece di prendere il sentiero normale, prenderemo una scorciatoia. Faremo una strada all'andata ed una diversa al ritorno.